E là, bentornati, bentornate su Broken Stories. Oggi vi presento un libricino tascabile che si distingue in particolare per la sua veste grafica elegantissima. Subito dopo la sigla. Il libro è questo, si intitola Resurgir, vampirismi sudamericani e delle edizioni di A.B. Editore che ci ha abituato proprio a questo tipo di cura grafica, a questi libri che hanno una loro continuità stilistica proprio nella capacità dell'art director di trasformare ogni romanzo, raccolta di racconti in una festa, in un tripudio per gli occhi, soprattutto per chi ama quel tipo di illustrazioni, beh, di acqueforti, così come di litografie, che hanno un po' il gusto delle immagini di Gustave Doré. Perché tutto il libro effettivamente ha un po' quel sapore. E non solo questo. C'è Gustave Doré dietro le impressioni visive di A.B. Editore. Elegantissimo, come sempre, ma anche veramente molto curato dal punto di vista grafico, con anche, cioè non soltanto sotto il profilo delle immagini, ma anche dell'impaginazione. Perché, per esempio, il font utilizzato, vi faccio vedere, ecco, sperando di non sforare troppo, di non sfocare, ecco, il font utilizzato ha proprio una sua discontinuità, è un po' sconnesso in una maniera artistica, creativa, che ci fa percepire il libro come un oggetto emerso dai corridoi del passato. Siamo di fronte, quindi, a un'esperienza grafica meravigliosa. Guardate anche come, per esempio, copertina e retrocopertina sono in continuità. Insomma, vabbè, c'è da divertirsi molto soltanto a sfogliarlo, questo libriccino, che vi metto, nel caso vogliate acquistare, in link qua sotto. Il link porta direttamente al sito della casa editrice, al suo shop online, perché non ho trovato il link su Amazon. Se poi lo dovessi trovare, ve lo aggiungerò. Dunque, conviene, come dire, è un libro che vi consiglio di acquistare, questo, che comunque ha un prezzo piuttosto modesto, mi sembra che si aggiri intorno ai 14 euro, 15, una cosa del genere. si tratta sicuramente di un volumetto composto di piccole chicche che fanno la gioia, possono fare la gioia, del completista, dell'appassionato specifico di questo argomento, i vampiri. Perché? Perché non ci sono, a quanto mi risulta, facili, non ci sono edizioni di facile reperimento, di autori sudamericani del passato, cioè fine 800, inizio 900, qui in Italia. Si presenta questa raccolta proprio come una chicca, ma anche un oggetto di osservazione su un fenomeno letterario che noi associamo di più alle, alle brughiere del nord, ecco, piuttosto che al sudamerica, che associamo più al realismo magico, al massimo, ma poi anche a tutte quelle atmosfere più assolate e soprattutto il realismo, no? Tutte cose che qui su Broken Stories non trattiamo molto spesso. Invece questi sono racconti di autori minori, senza dubbio, o almeno da quel che ho capito leggendo le loro presentazioni, qui, in apertura di ogni racconto. Non siamo di fronte a quelle firme che hanno fatto la storia della letteratura sudamericana, ma sicuramente anche a degli, comunque, esponenti che nella loro epoca ebbero qualche spicco. Alcuni invece proprio erano illustri sconosciuti all'epoca e purtroppo tali sono rimasti. Che tipo di racconti abbiamo qui? Il gusto è quello gotico, ok? Non cercate, naturalmente non vi potete aspettare nessuna innovazione, nessuna, rarissimi guizzi di originalità tale quale la consideriamo oggi dalla nostra posizione nel 2023? Dove siamo? Sì, 2022. 2022. Sono racconti gotici, con quel tipo di sentimentalismo, con quel tipo di gusto per lo spavento. I vampiri, in questo caso sono abbastanza eterogenei, non c'è il classico vampiro to cure, ci sono alcune variazioni sul tema. Devo dire che ho apprezzato in particolare, in particolare il primo racconto, La Vergine di Cera, per come è costruito. Ha una costruzione, ha un montaggio parallelo di una discontinuità cronologica che lo rende, diciamo, quasi cinematografico nel suo, nel suo montaggio. Davvero notevole. Ed è il, il racconto di Abraham Valdelomar del 1910. I racconti sono gradevoli, si leggono in un attimo, sono come delle, diciamo, caramelle da ingerire, così, per diletto, per distrarsi. Però se siete anche interessati invece all'argomento, se proprio vi appartiene, invece direi che è un libro assolutamente consigliabile e poi c'è sempre l'aspetto grafico. E questo non si discute. Cioè siamo di fronte a un libro che comunque, come sempre, quando si tratta di AB Editore, si fa apprezzare a un livello un po' diverso da quello che di solito io personalmente riservo ad altri, a tanti altri editori. Cioè questo AB Editore è un po' un, no, un Adelphi, ecco, un Adelphi del gotico che si sta, e spero, che si sta imponendo proprio per la sua firma stilistica, per cui fa piacere averlo in libreria a prescindere quasi dai contenuti. L'ho detto all'inizio, non sono completamente un'esteta, quindi i contenuti contano. Se questa veste grafica non esistesse, probabilmente io questo libro non lo avrei apprezzato così tanto, perché si tratta comunque di racconti che hanno, insomma, hanno un po' fatto il loro tempo, diciamo così. Non siamo di fronte ad autori strepitosi, però messi insieme così, ecco che il libro diventa un oggetto magico e bisogna riconoscerlo. Quindi un plauso ad AB Editore e bisogna riconoscere anche un'altra cosa. I scrittori sudamericani dei vampiri, io finora non credo di averne letti tanti, forse ma li ho dimenticati pochissimi nella mia vita. Qui c'è una bella, simpatica collezione da portarsi a casa e da regalare, perché come sempre quando un libro è così bello diventa un oggetto da regalare. Questo è quanto mi sento di dire su un libricino che ho apprezzato moltissimo per la sua veste grafica, moltissimo per la sensuale, il piacere sensuale di rigirarlo fra le mani, ecco qua, e di averlo, e di averlo nella mia libreria qua dietro, la libreria di Broken Stories. Ok, se non siete ancora iscritti a questo canale vi consiglio di farlo, se amate le narrazioni dark e immaginifiche e ci vediamo presto. Ciao! Grazie!